Io ho messo a disposizione la mia esperienza sui mercati finanziari che ormai siamo arrivati al settimo anno di negoziazione e al quarto anno di scuola per tutti coloro i quali vogliono intraprendere in modo professionale un percorso di formazione come quello del trader. Oggi insieme a Daniela Pure Market abbiamo presentato due nuove figure professionali super richieste nel mercato europeo come il trader e il gestore di fondi. Con Giordano Istruzioni siamo due società complementari, noi siamo un broker che cerca clienti profittevoli e diamo assistenza ai clienti profittevoli però il cliente profittevole come detto non si improvvisa, non nasce profittevole quindi abbiamo bisogno di una società che dà consapevolezza, dà istruzione e quindi con la Giordano Trading abbiamo creato questa sinergia e quindi non solo la sinergia di formazione poi diventi trader ma anche creiamo qualcosa di diverso con l'Accademia del Trading diamo la possibilità di crearsi un lavoro. L'iniziativa parte oggi qui a Palermo però prossimamente saremo nelle maggiori città italiane per presentare questo progetto che avrà uno scopo nazionale e poi internazionale, infatti oggi nessuno dà l'opportunità che diamo noi di formarsi e poi di gestire fondi reali e anche importanti. Un percorso formativo di tre mesi che parte quindi formazione con Giordano Istruzione, una fase poi di test in demo monitorata tra noi e Giordano Istruzione poi si passa in una fase live, un account con denaro reale che mettiamo noi a disposizione con determinati limiti ma anche lì monitorato e gestita dai nostri risk manager e poi da lì si firma quindi l'accordo, l'agreement, chi riesce a superare tutti gli step l'agreement di consulenza quindi lavorerà con il nostro fondo di investimento o con il nostro broker. Tutto partirà dal 23 di marzo con le iscrizioni quindi per il momento chi vuole magari avere aggiornamenti e news può registrarsi su Giordano Istruzione che quindi manderà la news appena il sito è disponibile.